Anna Safronchik, attrice ucraina molto conosciuta in Italia, è nata nel gennaio 1981. Figlia di una ballerina un'insegnante di danza e di un tenore, Anna ha iniziato prima ad approfondire la sua passione per la danza. A 12 anni, dopo aver portato avanti i suoi studi a Kiev, Anna è arrivata in Italia insieme a sua madre, nello specifico ad Arezzo. Nel 1998 è iniziata ufficialmente la sua carriera in Italia, nel mondo dello spettacolo, dopo essersi classificata all'ottavo posto a Miss Italia. La Safronchik poi è diventata sempre più conosciuta per via di tutte le fiction in cui ha recitato e i ruoli che ha avuto in televisione. Ad oggi, però, in tanti si sono chiesti quale sia la sua vita privata e chi sia suo marito. Ebbene, ciò che è certo è che Anna ha avuto diverse relazioni con altri volti del mondo dello spettacolo, come Giulio Berruti o Luca Ferrante. Attualmente, dopo una paparazzata a Mykonos, sembra che Anna Safronchik abbia una relazione con Tommaso Cicchinelli, un DJ molto noto in Italia. Non è chiaro però se i due stiano ancora insieme, dato che le ultime notizie su di loro risalgono al 2022, e poi la coppia non si è più fatta vedere in pubblico. In ogni caso, Anna non è sposata ma al massimo avrebbe una relazione in corso. Anna Safronchik, tutto sul DJ Tommaso Cicchinelli. Ad oggi, quindi, Anna avrebbe ancora una relazione con Tommaso Cicchinelli, visto che non è arrivata nessuna voce in merito alla loro rottura. Tommaso è coetaneo di Anna Safronchik e da circa 40 anni, ed attualmente vive a Roma. Proprio grazie alla sua occupazione, o almeno secondo quanto è trapelato, sarebbe avvenuto il suo primo incontro con Anna, e da lì avrebbero iniziato a frequentarsi. A quanto pare, Cicchinelli e la Safronchik avrebbero già avuto una relazione dal 2016 al 2018, poi terminata. Ma in seguito ci sarebbe stato un nuovo ritorno di fiamma, come testimoniano le paparazzate. Anna Safronchik ha infatti dichiarato nello stesso periodo, di essere felicemente impegnata, anche per smentire dei gossip su di lei. Ad ogni modo, Tommaso Cicchinelli ha avuto anche altre relazioni nel mondo dello spettacolo. Infatti è stato il compagno della showgirl Antonella Mosetti. All'epoca i due sembravano molto uniti e dichiararono, che non riuscivano a staccarsi nemmeno un attimo e dovevano stare sempre insieme. Anche quella storia però è finita ed ora sembra che vada tutto bene con Anna Safronchik. Voi che cosa ne pensate? Sapevate questi retroscena sulla vita dell'attrice, e che idea avete su Tommaso Cicchinelli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio